buonasera e andiamo a fare un altro unboxing si lo so sembra una piccola busta dell'immondizia ma non è così è un pacco arrivato direttamente dalla cina preso questo oggetto è preso è stato preso su un noto sito cinese allora andiamo a fare questo unboxing lascio la parola al mio figlio letto vai questo buco non l'ho fatto io allora questo buco l'ho fatto io perché è arrivato un avviso di giacenza il postino per non lasciare il pacco sopra la buca della poste delle poste della posta e sono dovuto andare a prenderlo personalmente in posta e mi chiedevo ma che pacco è questo così ho fatto sto buco e ho capito toccato un po l'oggetto che era all'interno quindi ho capito subito che cosa si tratta ma banda le ciance vai a te la parola via oggi spacchetteremo questo oggetto alza la voce non ci fanno gli spoiler cioè chi fa gli spoiler è una brutta persona addirittura non mai aiuta di guardare i film addirittura ah tu dici quelli che fanno gli spoiler si è vero anche io non lo sopporto perché uno vabbè che c'è i film di oggi già ormai conosci già il finale bene o male però ma sono banale allora vai già da quel po che si vede da questa forma fatta pixel super Hulk cosa abbiamo qui cosa abbiamo dai spiega tutto accogliamo l'occasione per dirvi come iscrivete bravo e lasciate un like questo è un unboxing prova a sfilare no no prova a sfilare il tutto no non c'è la scoperta no sfila il pacco è così sfila piano piano no sfila il pacco ci metteremo due ore intanto andatevi a prendervi un caffè nel caso di ragazzini prendetevi una una limonata ma la limonata di questi ne ha finalmente mai mai con la spiegazione